Cinque nuove date, nuova stagione concertistica per l'Orchestra Sinfonica di Salerno, prosegue questa avventura. Prosegue l'avventura e quest'anno possiamo dire che è un'avventura per noi molto più importante rispetto a quella dell'anno scorso. Diciamo che la conferma di quello che abbiamo già realizzato l'anno scorso mi preme dire e con piacere che io ero avuto una bellissima sorpresa, cioè sul suggerimento della nostra addetto stampa, la dottoressa Congessa De Luca, sono andato su Facebook e ho trovato la bellissima notizia con la quale il Comune nella sua pagina ufficiale Facebook annunciava la nostra conferenza stampa. Questo è stato un fatto che a me mi ha riempito di gioia e di cui sono molto orgoglioso, cioè il fatto stesso che le nostre istituzioni comunicano alla cittadinanza la conferenza stampa della nostra orchestra è qualcosa che ci riempie di gioia veramente. Il nostro cammino continua, l'anno scorso come dicevo prima abbiamo fatto un bel percorso, abbiamo fatto 20 concerti di due, uno importantissimo a Berlino e quest'anno abbiamo già in programma questa bellissima stagione concertistica. Quest'anno c'è qualcosa di nuovo, cioè c'è il fatto che il nostro sindaco ha voluto condividere questo progetto, questo nostro progetto dell'orchestra. Per condividerlo evidentemente ne ha acquisito gli elementi giusti, cioè ha capito che è una realtà dalla quale non si può prescindere né noi né le istituzioni evidentemente. Condivisioni di Facebook a parte, questo cammino dove va? La direzione che potete intraprendere e proseguire? Il nostro intendo è di fare sempre meglio e sempre di più. Abbiamo questa stagione concertistica che si articola in cinque concerti al Teatro Agusteo dove siamo ospiti delle nostre istituzioni. sappiamo che il Teatro Agusteo è il secondo teatro cittadino, quindi per noi è un onore ed è un orgoglio eseguire questa rassegna, questo nostro progetto dell'orchestra. Per condividerlo evidentemente ne ha acquisito gli elementi giusti, cioè ha capito che è una realtà dalla quale non si può prescindere né noi né le istituzioni evidentemente. Condivisioni di Facebook a parte, questo cammino dove va? La direzione che potete intraprendere e proseguire? Il nostro intendo è di fare sempre meglio e sempre di più. Abbiamo questa stagione concertistica che si articola in cinque concerti al Teatro Agusteo dove siamo ospiti delle nostre istituzioni. Sappiamo che il Teatro Agusteo è il secondo teatro cittadino, quindi per noi è un onore ed è un orgoglio eseguire questa rassegna, questa stagione concertistica nel Teatro Agusteo per il secondo teatro cittadino. E poi ci sono due date importanti che vanno ricordate. Va ricordata la data importante dell'8 aprile nella quale noi al Duomo di Salerno eseguiremo il Requiem di Mozart con un coro di circa 50 persone oltre all'orchestra, quindi anche questo è una tappa importantissima per noi, eseguire un Requiem di Mozart al Duomo per noi è un fatto di prestigio. E poi abbiamo un'ultima data il 30 dicembre alla Chiesa del Corpo di Cristo a Pagani e con questo noi chiudiamo questa stagione concertistica. Logicamente questa è la stagione programmata, ma evidentemente ci saranno altri concerti che verranno da commesse esterne per i quali abbiamo già qualche aggancio, qualche contatto, eccetera. Quindi io credo che quest'anno non è altro che la conferma di quello che è il nostro progetto, della realizzazione del nostro progetto. Ivan Antonio, direttore d'orchestra dell'OSCA dell'Orchestra Sinfonica di Salerno, Claudio Abbado per la seconda stagione concertistica che si tirerà al Teatro Augusteo Taglio del Nastro previsto il 10 marzo. Un concerto inaugurale che vi vede esecutori di brani di autori come Tchaikovsky, Bizet. Perché la scelta di questo programma e poi la scelta del titolo Ardente Allora, innanzitutto io sono felice ed orgoglioso di annunciare questa seconda stagione e come primo concerto avremo l'opportunità di ospitare una delle promesse più interessanti del panorama internazionale per quanto riguarda i direttori giovani. Infatti Giorgios Balazzinos è vincitore dell'ultimo premio a Berlino per i giovani direttori d'orchestra. Siamo amici, abbiamo studiato insieme all'Accademia Chigiana a Siena e da quest'anno mi è piaciuta subito l'idea di cominciare ad allargare le ospitate di giovani talenti perché la nostra orchestra vuole insomma promuovere i talenti nazionali e non. Ardente volutà perché lo dice stesso insomma il titolo, volutà sta per passione, è un'ardente passione che muove quest'orchestra di giovani grazie insomma alla forza maggiore che il nostro presidente il dottor Giovanni di utilizza. Quindi il programma Parla da sé è un incredibile programma romantico, un programma dell'ultimo premio a Berlino per i giovani direttori d'orchestra. Siamo insomma siamo amici, abbiamo studiato insieme all'Accademia Chigiana a Siena.